Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi, primo luglio. Intanto ringrazio a tutti quanti le migliaia di persone che questa mattina sono arrivate sul sito nicolaporro.it. Oggi ho fatto il record praticamente di visualizzazioni sul mio sito, quindi grazie a tutti quanti voi lo faccio attraverso anche questo strumento. Allora che cosa leggiamo sui giornali oggi? Beh, in realtà uno dovrebbe parlare delle cose serie, delle nomine europee, però a me questa cosa della comandante, chissà perché la chiamiamo comandante, capitana e non comandante, ma questo è un altro discorso, questa signora Carola, insomma mi fa impazzire, mi fa impazzire perché veramente io non so come si possa discutere di questa cosa, nel senso che come si possa anche per un solo secondo pensare che ci sono cinque parlamentari che il giorno prima che questa nave va a speronare una nave della Guardia di Finanza possono ancora essere considerati, come possiamo definirli, dei politici illuminati. Ecco, se non fosse altro, come dice oggi l'ex ministro degli interni tedesco, che vive in Toscana, intervistato dal Corriere della Sera e per di più socialdemocratico, questi cazzoni ne stanno regalando una specie di autostrada a Matteo Salvini. Cioè, ogni volta che io vedo Del Rio, vedo Flatoianni, vedo questi qui che arrivano sulle navi di UNG, che decide di fare la politica dell'immigrazione al posto nostro e anche loro, cioè dei parlamentari liberamente eletti in questo Parlamento, beh, ogni volta che vedo quella roba là, dice Scilli, beh, io penso che innanzitutto stiano violando delle leggi e comunque stanno facendo un'autostrada per il successo elettorale di Salvini. Non è che ci vuole molto a capirlo, lo capiscono anche gli stranieri che vivono in Italia, un po' meno evidentemente i nostri parlamentari. Vi devo sottolineare come oggi non è di secondo piano un manifesto, l'ennesimo manifesto di Calenda, fino a prova contrario, eletto nelle file del PD e del suo lista al Parlamento europeo, che dice Calenda sul foglio di oggi, attenzione, non difendiamo, bisogna difenderli i confini e non può essere abbandonata la difesa dei confini, dice Calenda, per un generico altruismo. Poi sicuramente si critica Salvini, si dice che è un boia, quello che volete voi, se la va a cercare, dà della sbruffoncella mentre deve avere un ruolo istituzionale, ma le persone normali non sanno bene, sanno bene da che parte stare, e cioè non quelle di questa comandante, non quella della pattuglia tricolore che è salita sulla nave, ma dalla parte di un paese che non si fa speronare. Quando poi io sento il Presidente della Repubblica tedesco che dice che bisogna rispettare le persone che salvano le vite umane, dico, e che cacchio c'entra? Cosa c'entra? C'entra qualcosa salvare le vite umane? Il Presidente della Repubblica tedesca è andato a vedere come cazzo vivono quelli che Carola salva nelle nostre estrazioni? È andato a vedere come vivono le nostre città? È andato a vedere come vivono le nostre periferie? Che cosa stai salvando? È andato a vedere nei palazzi occupati come vengono utilizzati come schiavi della droga questi qua? Ma che dice? I 42 che sono stati su Addison salvati da Carola, dove vanno a finire, secondo voi? A trovarsi un lavoro in un ufficio di collocamento con i navigator della minchia? O vanno a trovare una possibilità di andare a vivere in Germania che non ci riusciranno e rimarranno a fare i criminali in Italia? 90 su 100 rimangono in Italia, 50 su 100 a fare i criminali. Chiaro? Non è complicato, Presidente della minchia della Repubblica tedesca, che ci fa le lezioncine. E sulle lezioncine del Presidente della Repubblica tedesca, secondo me, dovremmo essere tutti d'accordo. Non è che ci dovrebbe essere. Quando la Francia ci dice che noi siamo isterici, la Francia può dire che è porro isterico, ma non l'Italia. Non i nostri ministri sono isterici, perché a proposito di isterismo, bisognerebbe ricordare a Sarkozy, che rideva su Berlusconi, che sta per andare in galera. A Macron, che rideva di questo governo, bisognerebbe ricordare che la sua gestione dei gilet gialli, quella sì è stata un po' isterica e tutto il mondo ride, non tanto sulla coppia imbarazzante, ma sul suo rapporto con Benalla, che era il suo guardia del corpo. Tutto il mondo ride quando lo vede, quell'Efebo, Presidente della Repubblica francese, nella sua incapacità di gestire il centro di Parigi. Questo ci fa ridere e ci sembra che sia un atteggiamento suo un po' isterico. Non il fatto che una persona viene arrestata dai magistrati e non da Salvini, perché a differenza della Francia, i magistrati dell'accusa non dipendono dal governo. E' un po' una differenza che forse bisognerebbe che qualche diplomatico gliela spiegasse a Macron, l'Efebino, il parente povero di Trudeau. Ma comunque, lasciamo perdere. Noi ci possiamo far dire che siamo degli isterici, il Presidente della Repubblica tedesca ci può far dire che è una che sperone. Io vorrei vedere che cosa sarebbe successo se un italiano a Duisenberg avesse speronato una macchina della Poliziai. Che cosa sarebbe successo? Ma io non ho parole. E qui non c'è desideri. Ci vuole Fratoianni con Salvini. Ci vuole Del Rio con Renzi. Non è che possiamo avere posizioni diverse. Poi dopo uno può dire, fermi tutti. Sto Salvini se la va cercando. Fermi tutti. Questo Salvini, il Ministro degli Interni, potrebbe avere un ruolo meno istituzionale. Penso. 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 Poi dopo vai a leggere ancora i giornali italiani. Sulla questione delle nomine europee ci sono cinque nomine importantissime. Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la minchia europea, il Presidente della Banca Centrale Europea, che è l'unica cosa che c'entra e che forse può andare a un belga. Pensate un po' in voi. Un belga alla Presidenza della Banca Centrale Europea. Beh, insomma, Dufiorini, direbbe Troisi. Allora, i due fiorini che stiamo cercando, i due fiorini che stiamo cercando, oggi sui giornali c'è soprattutto Repubblica, l'Italia isolata. Bene, e anche il Corriere della Sera che dice un'altra cosa che secondo me ha un senso, cioè che la politica europea la fa conto e non Salvini. Anche su questo ci possono essere ovviamente dei disallineamenti. Ma il dato fondamentale. Ieri capisco che i giornali italiani vogliono far vedere e mettere in evidenza il fatto che in Italia su questo c'è un gran casino. Ed è fuori di dubbio, perché a casa mia ci sarebbe un Presidente della Repubblica, c'è un Presidente del Consiglio e poi c'è un Ministro degli Interni. Non si è mai visto nel mondo che il Ministro degli Interni faccia la politica estera del Paese. Semmai c'è quell'altra specie di Efebino, il cugino povero di Trudeau e il cugino un po' meno povero di Macron. Cioè il nostro Ministro degli Esteri, Moavero. Moavero! Che uno dice come fai a rendere il Ministro degli Esteri Moavero. Quando tu c'hai il Ministro degli Esteri Moavero, voglio dire, io posso fare il Ministro dello Sport. Proprio io posso andare a fare il Ministro dello Sport. Posso giocare come un giocatore di basket dell'NBA, sapete, con le canotte traforate. Mi posso presentare con la canotta traforata a Palazzo Chigi e dire sono il Ministro dello Sport. Se Moavero è il Ministro degli Esteri del Governo del Cambiamento. Chiusa questa parentesi su Moavero, il dato fondamentale di ieri, qual era il dato fondamentale di ieri? Che la Merkel è da sola, isolata. Sembra, come posso dire, non conte isolato. La Merkel, ieri la Merkel aveva detto facciamo Presidente della Commissione Europea al posto di Juncker, Timmermans. Timmermans è un socialdemocratico, non è un popolare ed è di un paese che si chiama Olanda e ha avuto grandi ruoli nella Commissione Europea motivo per il quale la Merkel lo conosce evidentemente lo stima. Sto Timmermans, che era il candidato dei socialdemocratici alla presidenza della Commissione Europea, va anche bene, appunto a me mi fa schifo, ma va anche bene perché era il candidato dei socialdemocratici se non fosse che i socialdemocratici si sono presi una sleppa che la metà basta a queste elezioni. Non avranno vinto i sovranisti, ma i socialdemocratici hanno sicuramente perso. Bene, perché lo facciamo Presidente della Commissione Europea? Basta che sia amico della Merkel? No, tant'è che gli stessi tedeschi non sono contenti di questo pacchetto di nomine della Merkel. Non so se si riuscirà a fare il pacchetto di nomine della Merkel che sembrano poi quei pacchetti di nomine che si facevano al CSM in Italia. Cioè se metti da una parte uno devi mettere da una parte l'altro. È normale quando ci sono queste trattative. E quindi il problema è che il metodo Merkel è fallito ieri sera, non tanto quello conte. Quello conte è evidente cosa sta giocando il Presidente del Consiglio. Sta cercando di utilizzare il suo unico voto, quello dell'Italia, per evitare la procedura di infrazione. E quindi dice stai buono Salvini, fammi trattare a me. E non ha tutti i torti. Ma Timmermans non lo vogliono neanche gli italiani. Tra l'altro ci sono otto paesi. I famosi Visegrad che non contavano nulla, ma poi si capisce che insieme contano qualcosa. Più l'Italia, più la Gran Bretagna che non conta nulla, ma ancora un po' conta, che non vogliono il social democratico. Se siamo così tanti a non volere il social democratico, c'è una minoranza di blocco nell'Unione Europea. Sostanzialmente la notizia di oggi è che la Merkel è stata fottuta. Bene, probabilmente domani rivince, perché stiamo parlando di una grande politica europea. Ma questa è la notizia di oggi. Invece noi oggi siamo tutti quanti appesi all'Italia isolata. L'altra notizia di politica estera, e poi smetto, giuro, è quella di Trump che si incontra con Kim Jong, il presidente della Corea del Nord, che ti verrebbe da prenderlo a schiaffi. Cioè sapete quelli che prendereste a schiaffi dietro con quella specie di roba pelata, questa specie di spazzola che si è messo. Non possono i suoi, perché in genere quelli che gli fanno le foto, se sbagliano, vengono uccisi da Kim Jong. Beh, ma insomma, il punto fondamentale, lo dice Guzzanti oggi sul giornale. Cioè, ragazzi, dicevamo che Trump era un altro da prendere a schiaffi per la sua pettinatura, ma è l'unico presidente americano che è riuscito nella sua follia a cercare di trovare un accordo con questo signore che ha la bomba atomica e che l'ha costruita. Alessandro Orsini, oggi invece, il messaggero dice, ragazzi, è molto di facciata, non si riuscirà a fare un accordo perché non ha speso talmente tanto per il nucleare, dice Orsini, questi della Corea del Nord, e ha un costo sociale talmente altro che non possono dire abbiamo scherzato. Ma il punto fondamentale, dice Guzzanti, è che i democratici non ce vogliono stare. C'avevano il loro fighetta Obama, ma Obama non ha fatto metà dei passi avanti, anzi ha fatto molte più cagate di passi indietro di quanto abbia fatto il ridicolizzato della stampa internazionale Trump. Gran casino in Forza Italia. Io oggi mi limito soltanto alle prime pagine. Mallegni, che è il sindaco di, ex sindaco di un città toscana che è stato in galera ingiustamente, grande politico di Forza Italia, l'ho avuto spesso ospite da me, dice Toti, uno dei due coordinatori, se deve smettere di far il bambino viziato, è là. Poi leggo Toti, che dice Forza Italia deve uscire dal PPE, mi sembra sulla verità. Poi leggo la Carfagna sul quotidiano nazionale, se continua così posso mollare. Secondo voi, quel 6, 7, 8% degli elettori che ancora votano Forza Italia, quando vedono tre cose di questo tipo, si appassionano alle primarie? Secondo voi si appassionano all'uscita dal PPE? Secondo voi si appassionano sul fatto che la Carfagna può uscire dalla coordinamento? Secondo voi, in un mondo in cui la sinistra si qualifica per andare sui barconi, Calenda si qualifica per fare, diciamo, il democratico centrista, e dice, si rispettino i confini e si faccia una politica un po' più liberale, e Salvini, il sovranista, in questa pattuglia, secondo voi, c'è qualcuno che si appassiona alle primarie di Forza Italia? Perché se così fosse, mandatemi una mail. Sono convinto che le mail che arrivano sul mio sito sono inferiori alle persone che questa mattina stanno guardandolo, cioè pari a zero. Zero! Io voglio sapere, uno di Forza Italia, che non sia pagato di Forza Italia, ormai non ce ne sono più nessuno perché i partiti non hanno più dipendenti, si possa appassionare a questo grande dibattito su primarie Carfagna e Toti, Mallegni, o chi per lui? Secondo me, nessuno, nessuno, e lo dico con rimpianto perché una forza liberale in questo mondo di sovranisti e cazzoni forse sarebbe utile. Ecco, Roberto Tardella dice isterismo Forza Italia e Patrizia di Forza Italia se ne fregano tutti, io invece non me ne frego perché io penso che sia importante un ruolo centrista, liberista, liberale all'interno di questa, diciamo, gran casino europeo. Però, Pinella dice che ha la capolinea e altri con lei. Fantastico! oggi l'ultimo pezzo ve lo segnalo di Renato Farina sulla verità e su Libero scusatemi che ho detto perché sul Libero oggi Renato Farina conia il titolo il neologismo di Antigonismo. Un po' l'abbiamo intuito noi nei giorni scorsi col sito di quello studente che aveva detto col pezzo di quello studente che aveva scritto sul sito che palle costo Antigone neanche lo sanno leggere bene. Beh, oggi se leggete Farina che cita pure una parte della tragedia greca voi avete una specie immersione nella cultura. Poi dicono che i giornali di destra Libero il giornale la verità sono fatti soltanto da quattro scappati di casa in realtà l'unica grande lezione di tragedia greca che ho letto sui giornali comprensibile con un taglio è quella by Renato Farina leggetevela è una bella lezioncina quando sentite dire è Antigone ecco cercate di capire che cacchio diceva Antigone Farina ce lo racconta e ce lo mette in relazione a questo favoloso 68 in cui che ancora purtroppo ci portiamo appresso in cui l'antagonismo di per sé è buono il ritratto della Gruber fatto da Feltri io vi leggo soltanto una frase una sola una la Feltri dice che la Gruber è talmente di sinistra sentite bene è talmente di sinistra da non usare più la destra anche per la forchetta io lo trovo geniale poi va avanti col pezzo Antigone l'ha spiegato anche Nordio nei giorni scorsi e anche questo è vero Nordio ce l'avremo in un'intervista questa sera a Quarta Repubblica dove dovremmo avere anche Salvini se il Consiglio dei Ministri finisce in tempo perché abbiamo un Consiglio dei Ministri oggi alle 18 e poi dopo il Consiglio dei Ministri dovrebbe rivenire da noi a Quarta Repubblica il caso ovviamente del comandante Carola ma soprattutto la storia di cui tutti oggi si sono dimenticati cioè dei bambini di Reggio Emilia presi della Valdenza presi dalle loro famiglie e messi in famiglie affidatarie di omosessuali matte isteriche e comunque per presunti abusi che loro dicono di non aver oggi subito ci vediamo stasera alle 9 e 30 rete 4 mi raccomando tantissimi come tantissimi siete stati oggi sui siti e anche in questo momento in diretta 1100 e sulla diretta di Instagram ciao